Baila la salsa! Ma questa non è una salsa! Questo è un rotolo di frittata farcita! E ti viene la fritta! Coccalina, cocalina! Coccalina, cocalina! Coccalina, cocalina! Coccalina, cocalina! Farla cocer solo da un lato, che per farla arrotolato devi mettere ben stesa tutto il resto della spesa il formaggio, cipollotta, mortadella e la ricotta anche i grammi di prosciutto ad alivio per dire tutto! Buona c'è da lavorare che si deve arrotolare come fa poca corretta! Poi la avvolgi con stagnola come fosse una lenzuola gliela metti tutto intorno e la poni in caldo forno falla bene riscaldare ed è pronta ad assaggiare tutta quanta fatta a fette per mangiarci in sé o in sé! Coccalina, cocalina! 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 Coccalina, cocalina!